Sanremo Ricky si svela, il nuovo allo, Sanremo è una rinuncia Sanremo 2018, Ricky ci sarà? La risposta del cantante Riccardo Marcuzzo, in arte Ricky, arrivato secondo ad Amici 16 dietro il suo grande amico Andreas Müller, e al settimo cielo, a fine ottobre uscirà il suo nuovo album Mania preceduto il 29 settembre dal singolo Se parlassero di noi Ad annunciarlo lo stesso Ricky ieri sul suo profilo Instagram in cui ha postato la foto della copertina di TV Sorrisi e Canzoni in edicola oggi a lui dedicata E proprio a TV Sorrisi e Canzoni Ricky ha svelato tutti i dettagli sul nuovo album a partire dal titolo. Si chiama Mania perché Ricky e Mania Letti di fila suonano bene e perché è maniacale in tutto ciò che fa Rispetto al primo disco cambia il mix tra ballade e i brani ritmati, è un disco invernale, riflessivo, dove prevalgono le canzoni nate nei momenti di tristezza rispetto a quelle nate dalla felicità Ricci, nel 2017, ha venduto più dischi di tutti, ben 150 mila coppie per l'album d'esordio Perdo le parole. Proprio il successo clamoroso ottenuto da Perdo le parole ha convinto Riccardo Marcuzzo a realizzare subito un nuovo album Ricci parteciperà al prossimo festival di Sanremo? La risposta è no, per il momento non vuole farlo. Se il direttore artistico di Sanremo 2018, Claudio Baglioni, lo chiamasse lo ringrazierebbe ma rifiuterebbe Ricci dice no a Sanremo e svela come sarà il nuovo album Ricci, che non parteciperà al prossimo festival di Sanremo, a novembre debutterà con due concerti dal vivo a Milano e Roma in locali di media capienza, così ha voluto il suo produttore Francesco Fauchinetti I due hanno un rapporto diretto e molto costruttivo. Ricci, dopo il successo ottenuto durante e dopo Amici, ha dovuto rinunciare a malincuore allo studio di design che aveva aperto con un suo amico Ma quanto imparato all'università non è andato perso visto che è proprio Ricci ad occuparsi delle copertine dei suoi dischi. Ne ha fatta di strada Riccardo Marcuzzo dall'ingresso nella scuola di Amici poco meno di un anno fa Un percorso fatto di alti e bassi in cui è venuto fuori il suo carattere. Testardo e Pignolo, non ha mai avuto paura di dire quel che pensava Confessa di aver scritto il ritornello di Se parlassero di noi, il singolo in uscita il 29 settembre che precede il nuovo album Mania, dopo aver saputo di essere stato sospeso per tre giorni da Amici Sicuramente Maria De Filippi, fiera ed orgogliosa del suo pupillo, inviterà Ricci in una delle prime puntate di Amici che riaprirà i battenti a breve. Intanto la stella di Ricci continua a brillare nel firmamento della musica italiana Grazie a tutti!